Allora, buongiorno, benvenuti in questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo dei membri statici e del modificatore static. Cosa servono questi diversi modificatori? Beh, iniziamo a parlare di quello che è il modificatore final. Final sostanzialmente permette di andare a dichiarare un attributo come un qualcosa che non può essere modificato. Quindi quando io dichiaro un attributo final sostanzialmente lo devo inizializzare e quel valore a cui ho inizializzato non può cambiare successivamente. L'inizializzazione può avvenire in momenti diversi, quindi può avvenire direttamente in line come in questo caso, oppure può avvenire successivamente all'interno del costruttore. In ogni caso, alla fine dell'esecuzione del costruttore, gli attributi final devono comunque essere inizializzati. In generale, una volta che ho dichiarato un attributo final, questo non può più cambiare. Io posso utilizzare il modificatore final non soltanto per gli attributi, ma anche, ad esempio, per i parametri di una funzione o per le variabili locali. Il significato sostanzialmente è lo stesso. I parametri final non possono essere modificati, mentre invece normalmente i parametri sono sostanzialmente equiparati a variabili locali, inizializzate dal chiamante. Le variabili locali final, allo stesso modo, devono essere inizializzate e anche non necessariamente immediatamente alla loro dichiarazione, ma una volta inizializzate non possono più essere cambiate. Tenete presente che il modificatore final non è transitivo, ovvero la caratteristica di essere immutabile si applica alla variabile o al riferimento, ma non all'oggetto puntato. Vediamo qui un esempio in cui troviamo una classe che ha due attributi pubblici e un riferimento P a un oggetto di questa classe, dichiarato final. Ovviamente noi non possiamo andare a associare a P un nuovo valore. Ora, essendo dichiarato final, il riferimento P non può essere modificato, quindi P uguale a new person è un qualcosa che non è permesso, sostanzialmente viene segnalato un errore di compilazione. Mentre invece è possibile andare a dire P.first uguale a John, cioè andare a modificare l'attributo first dell'oggetto P che è puntato. Quindi, mentre il riferimento in sé è limitato, questo non si applica all'oggetto puntato dal riferimento final. A cosa servono gli attributi final? Lo vediamo, oltre a essere dichiarati non modificabili, possono essere convidati con un altro modificatore che è il modificatore aesthetic. Quando vado ad applicare il modificatore aesthetic a un attributo, questo mi segnala l'attributo come un attributo molto particolare che non è specifico per i diversi oggetti della classe, ma è comune a tutte le istanze della classe. Sostanzialmente questo significa che viene memorizzata una sola copia di quell'attributo e questa copia è condivisa da tutti gli oggetti della classe. A volte si chiama questo attributo un attributo di classe, inteso come termine opposto a attributo di istanza. Quindi gli attributi di istanza sono specifici, propriati a degli oggetti, mentre gli attributi di classe sono condivisi da tutti, quindi possono essere visti e modificati da tutti gli oggetti. Sostanzialmente gli attributi statici esistono o iniziano ad avere un'area di memoria loro allocata dal momento in cui la classe è caricata e questo avviene prima che qualunque oggetto venga creato. Normalmente cosa succede? Che qualunque modifica a un attributo statico viene automaticamente vista da tutti gli oggetti, perché sostanzialmente tutti fanno accesso alla stessa area di memoria. La parola chiave che utilizziamo è per l'appunto questa, static. A cosa servono gli attributi statici? Beh, sostanzialmente a mantenere un valore condiviso che può servire ad esempio a fare un conteggio di istanze di una certa classe, ad avere un'area comune in cui andare a memorizzare le copie di istanze, quindi potrei avere un array in cui memorizzo tutti i riferimenti agli oggetti che ho creato, oppure posso avere un singolo valore che è una costante. Qui vediamo un esempio molto semplice in cui nella classe car ho dichiarato un attributo statico di tipo intero che è countBitCars, che viene inizializzato a zero. Quindi questa variabile viene creata nel momento in cui la classe viene caricata dalla virtual machine e poi in un momento successivo, quando andrò a creare oggetti di tipo car, tramite questo costruttore, ci sarà un incremento di questa variabile. Questo vuol dire che ogni volta che creo un oggetto questa variabile verrà incrementata di uno ogni volta e tutti gli oggetti vedranno questo valore crescere. L'ultimo motivo che vi menzionavo, ovvero usare delle costanti, permette di andare a utilizzare in maniera combinata la parola chiave final e la parola chiave static per andare a dichiarare delle costanti. Allora, in questo esempio vediamo la costante pi, e vi ricordo che per convenzione le costanti sono scritte con lettere tutte maiuscole, che è dichiarata come final e static. Perché vengono dichiarate in questo modo le costanti? Beh, perché sostanzialmente devono essere costanti, quindi non modificabili, da qui l'utilizzo del modificatore final. Static sostanzialmente fa in modo che esista un'unica copia di quella variabile. Se io non mettesse static davanti a un attributo dichiarato final, ogni classe avrebbe la propria copia di questa costante, che sarebbe ovviamente un grosso spreco di memoria. Se io cerco in un qualunque momento successivo di andare a modificare il valore di una costante, ovviamente ho un errore, e soprattutto devo andare a ricordarmi di inizializzare queste variabili. E normalmente le devo inizializzare direttamente in linea, esattamente come abbiamo fatto qui per la variabile pi. Oltre agli attributi statici, in Java è possibile andare a dichiarare dei metodi che siano statici. Qual è la caratteristica di questi metodi? È che sostanzialmente non sono legati ad alcun oggetto. Mentre un metodo normalmente deve essere invocato su un particolare oggetto, e quindi può operare sugli attributi di quell'oggetto, i metodi statici sono slegati da qualunque oggetto, e quindi possono essere chiamati senza fare riferimento a un particolare oggetto, quindi senza un riferimento, e ovviamente non hanno la possibilità di accedere agli attributi di istanza. Perché? Perché ovviamente, non essendo chiamati su un oggetto, non si trovano all'interno di un oggetto, e quindi non hanno un valore di is tramite cui accedere agli attributi di istanza. Mentre invece possono normalmente andare a fare riferimento agli attributi statici, quindi quelli di classe. Un esempio di metodo statico, che abbiamo già visto molte volte, è il metodo main, che è dichiarato come public static. Questo perché? Perché inizialmente, all'avvio di un'applicazione Java, la Java Virtual Machine deve poter chiamare questo metodo senza avere alcun oggetto a disposizione, e quindi ovviamente deve essere dichiarato static. Un altro uso del modificatore static per i metodi è quello che vediamo nell'esempio invece che sta qui sotto, dove abbiamo quella che è sostanzialmente una funzione dichiarata come static. Perché è dichiarata in questo modo? Perché sostanzialmente il valore di ritorno dipende soltanto dai parametri e assolutamente non dipende da potenziali attributi di un oggetto. Quindi quando abbiamo delle funzioni pure, che hanno un input che dipende semplicemente dai parametri, scusate, un output che dipende semplicemente dai parametri di input, di solito è buona norma dichiararle come metodi statici. L'altro vantaggio è che, oltre a essere chiaro come funziona, posso chiamare questi metodi utilizzando esclusivamente il nome della classe senza dover creare prima un oggetto. Se non fosse dichiarato come static, dovrei avere un oggetto di quel tipo, utilizzare il riferimento e chiamarlo. Per cui, per accedere a un attributo statico, a un metodo statico, sostanzialmente quello che faccio è utilizzare, invece di un riferimento, il nome della classe, per cui car.countBuildCars sostanzialmente fa riferimento all'attributo statico che ha questo nome dentro la classe car. utility.inverse invece fa riferimento al metodo statico dichiarato dentro la classe utility. Qui in questo caso gli passa un parametro e poi otterrà un valore come risultato. In generale, può capitare di avere una classe che ha tanti metodi statici o membri statici, ad esempio delle costanti oppure tante funzioni. In questo caso, è possibile importare tutti quegli elementi, quindi tutti, ad esempio, i metodi statici, e utilizzarli direttamente senza dover mettere davanti il nome della classe, utilizzando questa notazione, facendo un import static, il nome del package, la classe e punto asterisco. A questo punto, tutti i metodi e gli attributi statici che si trovano dentro questa classe sono utilizzabili senza dover specificare il nome della classe o altro, e quindi sostanzialmente li posso utilizzare come fossero delle funzioni. Un esempio di metodi e attributi statici già definiti nelle classi di default del sistema sono quelle che si trovano, ad esempio, dentro la classe System. Dentro la classe System abbiamo, ad esempio, un metodo che si chiama CurrentTimeMillis che ci restituisce il tempo corrente di sistema espresso in millisecondi. può essere usato, ad esempio, per andare a fare delle operazioni di conteggio del tempo trascorso tra un evento e un altro. Esiste anche un altro metodo che si chiama Exit, per cui quando io faccio System.Exit posso sostanzialmente terminare l'esecuzione della virtual machine. In generale questo è un modo non raccomandato per terminare l'esecuzione di una virtual machine perché non viene chiamato nessun metodo, sostanzialmente l'esecuzione termina immediatamente, quindi non viene rilasciata a memoria, non viene fatto nulla. Un altro esempio, questa volta di un attributo statico, è l'oggetto Out che si trova sempre dentro System. Abbiamo visto nei nostri esempi, quando dobbiamo andare a stampare, che facciamo sempre riferimento a System.Out. Ecco, Out è un oggetto di classe PrintStream, dichiarato come static e final all'interno della classe System, che noi possiamo utilizzare per andare a stampare sullo standard output. Esiste ancora un uso del modificatore estetica all'interno delle classi, che è quello di poter introdurre quello che si chiama un blocco di inizializzazione statica, per cui io all'interno di una classe posso andare a definire estetica, aperta graffa, chiusa graffa, e in questo blocco andare a definire una serie di istruzioni che verranno eseguite in fase di inizializzazione. Cosa vuol dire? Che non appena la Java Virtual Machine è caricata una classe, esegue questo codice per fare tutta una serie di inizializzazioni. Ad esempio, se io ho una variabile che è dichiarata come final static, quindi sostanzialmente diventerà una costante, posso fare un'operazione complicata per andare a calcolare il suo valore, invece di scriverlo direttamente in linea, oppure posso fare una serie di operazioni eventualmente molto più complicate di inizializzazione e queste vengono eseguite prima di creare alcun oggetto e immediatamente dopo che la classe è stata caricata in memoria. Vediamo un altro esempio di uso di questo modificatore estetica per andare a creare quello che è, ad esempio, un sistema che permette di gestire dei nomi globali all'interno di un programma. Quale può essere l'utilità di questa classe? Beh, immaginate di avere un programma di grandissime dimensioni in cui io voglio poter accedere a dei valori specifici, a dei settaggi e le diverse parti del programma sono sviluppate in maniera indipendente e quindi non posso sostanzialmente andare a passare delle variabili perché sono molto distanti e è difficile mettersi d'accordo. Per cui è possibile avere una classe unica che ha un unico attributo pubblico statico che è la radice di questo albero di nomi in cui io posso andare a ricercare i miei settaggi, le mie costanti comuni a tutto il mio programma. Come faccio a creare questa classe? Beh, sostanzialmente vado a dichiarare directory come un riferimento root dichiarato public fine aesthetic quindi una volta inizializzato non può più essere toccato quindi il riferimento è sempre allo stesso oggetto e poi posso definire un blocco di inizializzazione che semplicemente crea un nuovo oggetto di tipo directory. cosa succede se questo unico oggetto a radice a cui faranno poi riferimento tutte le parti del mio programma non è sempre utilizzato quindi magari serve solo in alcuni frangenti oppure se la sua creazione è molto costosa perché magari deve andare ad allocare memoria o caricare dati da un file system piuttosto che dalla rete. ecco, in questo caso io posso andare a modificare questa struttura in modo che root non venga creato in fase di inizializzazione quindi prima che parte al mio sistema magari ritardando l'avvio del sistema stesso ma invece venga creato quando è necessario ovvero al primo tentativo di accedere. Quindi quello che posso fare è di andare a modificare la visibilità di questo oggetto root mettendolo come privato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno potrà più accedere direttamente a questo oggetto root. E vado a definire un metodo public static che si chiama get instance che verrà chiamato in ogni parte del programma tutte le volte che devo accedere alla radice del mio albero di nomi. A questo punto se quando viene chiamato get instance normalmente la prima volta root è nullo l'oggetto root viene creato quindi viene creato su richiesta non appena necessario e restituisce l'oggetto root. Le volte successive root sarà già stato inizializzato e quindi non avrà più bisogno di essere creato e semplicemente verrà sempre restituito la stessa copia dell'oggetto. Il problema che abbiamo visto ovvero la necessità di avere un unico oggetto istanza di una classe che debba essere creato esattamente una volta e che questo oggetto debba essere disponibile a tutti e che la sua creazione debba essere fatta su richiesta quindi non inizialmente è un problema abbastanza comune ed viene codificato in quello che si chiama un pattern i pattern sostanzialmente permettono di andare a codificare delle soluzioni a problemi tipici ricorrenti che sono ben noti il pattern in particolare si chiama singleton il contesto in cui mi trovo è di avere una classe che rappresenta un concetto che richiede un'unica istanza il problema è che io voglio garantire che tutti gli utenti di questa classe usino nel modo corretto questa classe quindi andando sostanzialmente a utilizzare sempre lo stesso unico oggetto come faccio? la soluzione è quella che abbiamo visto prima ovvero vado a dichiarare una classe che viene chiamata singleton quindi il nome specifico cambierà ma il nome generale di questa classe è singleton che ha un attributo privato che è l'istanza unica condivisa e un metodo get instance che mi permette di andare a recuperare quell'istanza e quando necessario mi permette di andare a crearla ovvero sostanzialmente a quella che è la prima inizializzazione quindi in questo modo io garantisco che tutti gli utenti di questa classe vedano esattamente la stessa istanza e che l'istanza va regrata una volta sola non appena è necessario crearla il metodo get instance è un esempio particolare di quello che di solito viene chiamato un factory method ovvero un metodo che è utilizzato per andare a creare una nuova istanza di un oggetto quindi sostanzialmente è un metodo che nasconde l'uso diretto dell'operatore new molto spesso si tratta di un metodo statico e può fare diverse operazioni come abbiamo visto prima può andare a restituire una singola istanza e creare l'azione ancora presente potrebbe andare a restituire un oggetto preso da un pool di oggetti preallocati immaginate di avere degli oggetti che sono abbastanza standard che so i colori piuttosto che i nomi delle città se esiste già un oggetto che rappresenta una città invece di crearlo vado a restituire quello che è già stato creato prima in modo da evitare duplicati oppure posso andare a creare degli oggetti intermedi per fare operazioni di creazione abbastanza articolate in quest'ottica in quest'ottica il fattori method viene utilizzato per andare ad avviare quelle che sono delle interfacce cosiddette fluent ovvero sono una serie di metodi che costruiscono un API una serie di chiamate che permettono di andare a migliorare la leggibilità del codice nell'andare a costruire degli oggetti che sono potenzialmente complessi sostanzialmente utilizzando un'interfaccia fluent quello che ottengo è di andare a scrivere del codice che può sembrare quasi una frase in linguaggio naturale quindi se sfruttato opportunamente questo approccio permette di costruire quelli che sono una sorta di linguaggi specifici per il dominio o DSL quindi formano una specie di sintassi semplificata che ci consente di fare delle operazioni potenzialmente complesse pur mantenendo il codice abbastanza leggibile vi faccio vedere un esempio immaginiamo di dover andare a creare una classe che rappresenta un'unità di misura quindi un valore più l'unità di misura quindi vogliamo rappresentare ad esempio 10,4 watt i watt che cosa sono? kg m2 per secondi alla meno 3 quindi se voglio andare a rappresentare questo devo andare a dare il valore e poi devo andare a specificare quelle che sono unità di misura per cui una volta creato l'oggetto misura in questo modo devo andare a specificare che ho unità che sono i kg con esponente 1 un'altra unità che sono i metri con esponente 2 e un'altra unità che sono i secondi con esponente meno 3 in più magari mi interessa andare a rappresentare questa misura con un certo livello di precisione quindi vado a indicare che mi interessano due cifre decimali a questo punto ho fatto tutta una serie di chiamate che sono potenzialmente complesse qual è l'alternativa? l'alternativa è per l'appunto quello che abbiamo chiamato un'alternativa fluente ovvero andare a costruire lo stesso oggetto quindi lo stesso oggetto che contiene il valore le informazioni su quali sono le unità di misura in questo modo quindi measure punto value 10.4 punto is kg by m squared by s 2 meno 3 with precision 2 done ora questa scrittura che ho inventato io così alla veloce è decisamente più semplice da leggere rispetto a questa per cui power uguale a new measure power radunit power radunit power radunit power set precision è più facile da leggere ed è anche più compatta ecco questo è un esempio di un'interfaccia fluent per andare a costruire un oggetto complesso come quello di una misura con le relative unità e il livello di precisione qual è la base? beh allora se andiamo a considerare la versione base non fluent la classe potrebbe essere descritta in questo modo quindi una classe measure con un attributo double privato e un'unità di misura oltre a una precisione l'unità può essere rappresentata ad esempio come una lista di oggetti unità uno legato all'altro che io posso andare ad aggiungere con questo metodo di unit che prende un nome e un esponente e quindi crea un nuovo oggetto unità passandogli il nome e l'esponente dicendo qual è l'unità precedente che era già stata memorizzata dentro la misura e vado a mettere il nuovo oggetto a farlo puntare dall'attributo unit set precision è molto semplice perché mi permette di andare a settare la precisione ovviamente questo mi permette la versione base se io voglio andare a costruire un oggetto è ovvio che devo fare delle operazioni diverse per cui quello che normalmente si fa è di andare a creare tramite la prima chiamata al primo metodo non un oggetto measure ma bensì un oggetto intermedio che ha tutti questi metodi quindi is by squared to with precision è un oggetto che normalmente viene chiamato un oggetto builder ovvero un oggetto che ha dei metodi che permettono di andare ad assemblare man mano con dei passaggi intermedi un oggetto decisamente più complicato che è quello della misura l'oggetto builder potrebbe essere dichiarato in questo modo quindi il metodo value della classe measure sostanzialmente riceve un valore e crea un nuovo oggetto builder passandogli v l'oggetto builder che cos'ha ha come attributo principale un object che è la measure quindi l'oggetto che andrà a costruire e poi ha le unità che lui mantiene da un'invocazione all'altra per cui quando creo l'oggetto builder questo crea anche l'oggetto measure e gli passa il valore dopodiché quando vado a chiamare is passo il nome di unità di misura e lui che cosa fa semplicemente memorizza l'unità di misura perché potrebbe ancora arrivare l'esponente quindi non può definire unità di misura subito ha bisogno di aspettare che arrivi un esponente oppure che arrivi un'altra unità di misura e restituisce this in modo che io possa fare la sequenza di chiamate concatenate dopodiché c'è quest'altro metodo buy che sostanzialmente permette di andare a aggiungere un'altra unità di misura quindi in questo caso se chiamo il metodo buy dopo aver chiamato is cosa succede se nel frattempo era già stata definita l'unità di misura e faccio un buy significa che l'unità di misura precedente avrà come esponente 1 e quindi che cosa faccio faccio un object punto add unit unit name 1 e vado a memorizzare la nuova unità di misura dentro l'attributo unit name se successivamente devo andare a definire un esponente lo farò tramite i metodi squared oppure to per cui se ho squared cosa faccio vado a dire object punto add unit unit name 2 return this e quindi ho aggiunto una nuova unità di misura oppure se ho un esponente faccio object add unit unit name exponent e poi metto unit name annull e restituisco this questo di nuovo mi permette di fare una sequenza di chiamate concatenate with precision chiama il metodo set precision dell'oggetto e restituisce di nuovo this l'ultima operazione che faccio che abbiamo visto nel caso precedente è quella di done quindi done che cosa fa semplicemente va a restituire l'oggetto che è stato creato con tutte le chiamate precedenti qual è il risultato di questa operazione è sostanzialmente che l'oggetto builder che abbiamo appena visto mi permette di andare a fornire una serie di metodi per andare a generare in maniera incrementale e utilizzando una notazione sostanzialmente fluente che costruisce delle frasi che sono simili al linguaggio naturale l'oggetto che altrimenti dovrei andare a costruire con tutta questa serie di chiamate attenzione l'utilizzo di un builder mi permette anche di fare una serie di operazioni per cui io potrei andare a controllare che che so venga sempre definito un esponente che comunque venga messa sempre la precisione per cui se non è messa la precisione lancio un messaggio d'errore cosa che invece con questa serie di metodi che vengono chiamati su measure io non posso fare quindi questo oltre a essere più compatto potenzialmente più leggibile mi permette anche di andare a definire una serie di controlli che mi permettono di garantire che l'oggetto complesso venga costruito in una maniera appropriata abbiamo visto quindi come possiamo andare a utilizzare i metodi statici per andare a fare delle operazioni relativamente complesse quindi abbiamo visto come possiamo andare a creare un singleton abbiamo visto come possiamo andare a utilizzare un metodo statico per creare un oggetto builder che mi permette di usare un'interfaccia di tipo fluente vediamo un caso in cui io posso andare a restituire un oggetto da un pool di oggetti già esistenti questo caso sostanzialmente è quello che troviamo nella classe string si tratta di un meccanismo che si chiama string pooling che cosa succede all'interno della classe stringa sostanzialmente la classe stringa mantiene al suo interno un pool di stringhe predefinite e offre un metodo che si chiama intern che sostanzialmente non è un factory method ma è un metodo che fa un'operazione analoga a quella di un factory ma soltanto su richiesta che cosa succede sostanzialmente il metodo intern verifica se data una stringa esiste già una stringa identica nel pool di stringhe predefinite se non esiste aggiunge questa stringa al pool e dopo aver fatto questo restituisce la stringa per cui se già esiste restituisce la stringa dal pool altrimenti la aggiunge e basta a cosa serve questo sostanzialmente serve quando io creo una stringa a evitare di mantenere in memoria tante copie di stringhe che hanno sostanzialmente lo stesso contenuto quindi quando io ho costruito una stringa posso chiamare il metodo intern che cosa fa verifica se la stringa c'è se c'è mi restituisce quella che già è nel pool predefinito e quindi posso buttare via quella che avevo costruito prima se non c'è mi restituisce di nuovo la stessa stringa quindi la nuova che ho creato ma lo aggiunge al pool quindi successivamente io mi ritrovo a poter tranquillamente quando ho una stringa identica sfruttare quella che è già presente nel pool quindi sostanzialmente intern è un meccanismo che mi permette di scartare eventuali doppioni di stringhe che io mi trovo a disposizione vediamo in un esempio come funziona intern quindi immaginiamo di avere questo codice di esempio quello che faccio è sostanzialmente avere due stringhe che vengono create a partire da un array di caratteri e poi le chiamate intern vediamo passo passo cosa succede allora ci troviamo inizialmente ad avere il nostro pool di stringhe predefinite che è inizialmente vuoto il primo passaggio che faccio è quello di andare a creare la stringa s1 a partire dai due caratteri h e i quindi creo la stringa e la metto nello hip il nostro pool di stringhe predefinite è ancora vuoto quel pool viene manipolato soltanto tramite il metodo intern quando quando creo una seconda stringa s2 che ha lo stesso contenuto questa di nuovo viene creata viene messa nello hip ma viene creata una stringa completamente separata a questo punto cosa faccio vado a prendere la versione internizzata di s1 quindi che cosa succede quando chiamo s1 punto intern vado innanzitutto a verificare se nel pool esiste una stringa che contiene quelle due lettere hi se non c'è la aggiungo se invece c'è ma non è il caso restituisco un riferimento a quella stringa quindi nel caso della nostra stringa s1 cosa succede aggiungo nel pool un riferimento alla stringa e vado a restituire il riferimento a quella stringa è la prima stringa messa nel pool che ha come contenuto hi al secondo giro quindi quando cerco di andare a chiamare intern su s2 che incidentalmente ha lo stesso contenuto di s1 che cosa succede che intern scopre che esiste già una stringa nel pool che ha quel contenuto e quindi restituisce un riferimento alla stessa stringa quindi a questo punto cosa succede che io mi ritrovo i1 e i2 che pur partendo da due stringhe distinte con lo stesso valore puntano sostanzialmente a una sola stringa a questo punto io potrei buttare via i riferimenti s1 e s2 a questo punto l'oggetto puntato da s2 verrebbe buttato via e resterebbe soltanto l'oggetto puntato da s1 oltre che alle due versioni internizzate i1 e i2 questo meccanismo viene utilizzato dal compilatore tutte le volte che noi abbiamo una stringa inizializzata a partire da un letterale per cui quando mi ritrovo dentro il mio codice una stringa s1 uguale hi cosa succede il compilatore prende questi caratteri e genera sostanzialmente un array di caratteri perché questo è sostanzialmente questo letterale crea una nuova stringa a partire da questo array di caratteri che sono i caratteri che ci ritroviamo qua dopodiché chiama intern su questa nuova stringa che è stata creata a questo punto che cosa succede? succede che sostanzialmente la prima volta che io vado a creare una stringa che ha questo contenuto intern non trovando nessuna stringa con i due caratteri hi me lo metterà nel pool e mi restituirà sostanzialmente la stessa stringa le volte successive quando creo una stringa che ha quei contenuti intern me la troverà già presente e quindi mi restituirà non la stringa che ho appena creato ma bensì un'altra che è la prima che è stata messa nel pool il risultato qual è? il risultato è che sostanzialmente tutte le volte che uso lo stesso letterale alla fine verrà riportato esattamente allo stesso oggetto stringa per cui quando io ho tanti letterali uguali all'interno di un programma non soltanto il metodo equals funziona ma funziona anche l'uguale uguale solo che questo funziona soltanto se quelle variabili sono state inizializzate direttamente a partire da un letterale nel momento in cui faccio qualunque modifica gli oggetti vengono distinti e quindi l'uguale uguale e l'equals sono diversi quindi l'idea è che io posso comunque utilizzare intern per andare a ridurre il pool di oggetti che sono presenti in memoria rilasciare gli altri e sostanzialmente avere un'occupazione di memoria molto ridotta questo è molto utile in java perché come abbiamo visto utilizzando le stringhe ogni volta che io faccio un'operazione che potenzialmente potrebbe modificare la stringa in realtà non modifico la stringa ma vado a creare una versione modificata della stessa e tendenzialmente mi dimentico o perdo nello rip l'oggetto precedente per cui utilizzare questo meccanismo mi permette di andare a ridurre significativamente la memoria direi che con questo abbiamo esplorato la parola chiave final che sostanzialmente mi crea delle variabili che non possono più essere modificate e soprattutto la parola chiave static che mi permette di andare a definire attributi e metodi statici che hanno diversi usi abbiamo visto tre diversi usi abbiamo visto l'uso in cui andiamo a utilizzare una factory method che mi permette di andare a definire un singleton una factory method che mi permette di andare a utilizzare un builder e un altro tipo di metodo intern che sostanzialmente utilizza un pool statico di oggetti per andare a evitare duplicazione di valori di dati in memoria di dati di dati